Davanti all'amarezza, al rancore, alle lamentele, la parola della Chiesa di oggi è coraggio. Viene il Signore a consolarti, fidati di Lui. Così Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando le letture del giorno con il passo del profeta Isaia e il Vangelo di Luca sulla guarigione del paralitico. Nel negativo siamo padroni, ha spiegato Francesco, invece nel positivo siamo mendicanti e non ci piace mendicare la consolazione. e ha fatto l'esempio del paralitico della piscina di Siloe, 38 anni lì con la sua amarezza perché nessuno lo aiuta. Quindi del profeta Giona, premio Nobel delle lamentele, che invece di lodare Dio si lamenta davanti a lui. E invece gli amici del paralitico, del Vangelo, non conoscevano il negativo, volevano solo che il loro amico fosse guarito e hanno fatto un buco sul tetto e l'hanno fatto scendere. Ma non è facile lasciarsi consolare. E' più facile consolare gli altri che lasciarsi consolare. Perché tante volte noi siamo attaccati al negativo, siamo attaccati alla ferita del peccato dentro di noi. e tante volte c'è la preferenza di rimanere lì, sul solo, sia sul letuccio, come quello del Vangelo, sull'altro, lì, e non alzarsi. Alzati, è la parola di Gesù sempre. Alzati. Alzati. Close. Grazie a tutti